Dichiaro il signor Simone di voler prendere in moglie la cui presente signora Caterina Si lo voglio Siamo certi della risposta Adesso passiamo a Caterina Dichiaro la signora Caterina di voler prendere in moglie la cui presente signor Simone? Si A questo punto io, Claudio Consorini, presidente del consiglio di zona 8 E delegato dal sindaco alle funzioni di ufficiale dello Stato civile Pronuncio il nome della legge Che il signor Simone e la signora Caterina qui presenti Da questo momento sono uniti in matrimonio Applausi Grazie Grazie